Domani mercoledì in Regione Lombardia l'attesa, mozione di sfiducia nei confronti del Governatore Roberto Formigoni, mozione di sfiducia che vede tra i firmatari anche Carlo Spreafico, consigliere regionale lecchese del Partito Democratico. Dunque domani in aula la mozione, con quale spirito vi accingete ad affrontare l'importante discussione? Sì, è una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico insieme all'Italia dei Valori e a SEL, su cui mi auguro possa anche convergere l'Udc, praticamente quindi di tutte o quasi le minoranze. È una mozione che chiede conto a Formigoni di quanto è avvenuto in questi mesi, in quanto Formigoni è il massimo rappresentante di un sistema presidenzialista che ha visto progressivamente aumentare il numero di assessori, di consiglieri regionali e della sua maggioranza coinvolti in indagini giudiziari. Ora, pur sperando che tutto questo agli effetti delle singole persone siano in grado di dimostrare la loro innocenza, resta un fatto grave che determina una situazione di sfiducia forte, di perdita di credibilità. In più a questo aggiungiamo le notizie sempre più insistenti, chiare e motivate, che riguardano la stessa attività del Presidente Formigoni. Non ci si può nascondere dietro il fatto della mia vita privata rispondo solo io, dei fatti che riguardano i miei assessori rispondono loro, perché il sistema così non funziona. Ecco, al di là delle possibilità di successo della mozione, è sicuramente un'occasione valida per affrontare la questione etica-morale all'interno del Consesso regionale. Sì, noi l'abbiamo fatto anche però puntando a un risultato importante. Io non so come andrà la votazione, è chiaro che la maggioranza potrebbe far quadrato, probabilmente farà così, credo che se farà così commetterà un errore, perché succederà con un voto compatto della maggioranza in difesa di Formigoni e semplicemente verrà dimostrato che dentro a quel palazzo esiste una maggioranza che è sempre più sorda quello che avviene fuori dal palazzo, che non sente le critiche e quello che dicono i cittadini normali, che non condividono certe cose, che si aspettano che la politica cambi. Se ci sarà un voto che rifiuterà questa mozione, credo che sarà un voto triste, un voto che certamente dimostrerà che dal punto di vista muscolare Formigoni è ancora forte, che la sua maggioranza tiene, ma che il suo consenso cala, che le prospettive che Regione Lombardia possa lavorare serenamente, diminuiscono. Oggi avremmo bisogno invece di una Regione, di una Giunta tutta concentrata ad affrontare i problemi di grave crisi economiche che abbiamo, delle famiglie, dei pensionati, mentre invece della Regione Lombardia si parla sola e prevalentemente per gli avvisi di garanzia, per le vacanze sugli yacht di Formigoni e via cantando. Credo che sia una umiliazione per una delle istituzioni principali del nostro sistema democratico. E certamente da questo punto di vista noi vogliamo anche fare un richiamo etico. Io vorrei ricordare che anche il Partito Democratico è stato toccato da vicende, non voglio nascondere nulla, però è chiaro che Filippo Penati nel giro di pochissimi giorni ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico istituzionale. Per cui noi siamo coerenti, non usiamo due pesi, due misure. Anche alla Lega vorrei dire che ha fatto un'operazione di pulizia al proprio interno, non ha aspettato che ci fossero gli avvisi di garanzia per chiedere conto al suo gruppo dirigente, accusato, ha torto ragione, saranno altri a stabilirlo, però accusato di gravi problemi, la Lega ha deciso politicamente che era utile che facessero un passo indietro. Io mi auguro che questa stessa Lega abbia il coraggio di chiedere le stesse cose a Formigoni.